Siamo qua a Milano, gira 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 le belle fighe che ci sono qua Allora, qua siamo qua per assaggiare, capisci? Quindi andiamo subito dalle ragazze a assaggiare Qua abbiamo una quality di classe, no? Damn! Ok, insomma, chi dici il tuo nome? Laila Laila, ok, ok, allora Laila ti si farà un paio di domande Intanto dacci un voto da una dieci a noi tre Partiamo da lui, suo nome? John, Isaac, Isaac Allora, io mi farei chiamare Puff, ma il mio nome è davvero artista, il mio nome è PMC, capisci? Ok, parti Laila, parti da lui Nove Let's go E al mio amico qua? Oh Bene dal cane? Otto Otto, let's go, let's go, let's go Bravo Bravo Io non capisci che io non parlo, già ci siamo capiti Nove e mezzo Nove e mezzo Nove e mezzo, già lo sai, no? Un vero indico non capisce mai, il primo sempre, ok, ok Chi baceresti, chi sposeresti e chi ameresti Cioè, a lui devi sposare, è un esempio, capito? Let's go Qua l'italiana, addio Allora, bacerai lui? Come faceresti lui? Io non ti sposo, vai Vai, vai Amare e sposare Certo, è troppo difficile No, dai, dai, niente, dai Ah Poi avvicinato il microfono Avrei lui e sposerei te Ah Giulia Yo, 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 abbiamo beccato di nuovo altre tipi, è chiaro Abbiamo qua Irene Irene E poi abbiamo Giulia Bello stile Giulia, mi piace Tranne il cappello perché sto cappello lo usano un po' tutti Però mi piace il tuo stile Ok E nulla ragazzi, abbiamo due domande da farvi, solamente due Che voto daresti da 1 a 10 tutte e 3, partire da? Chi vuole partire? Giulia Partirei io Ok, che voto gli daresti al mio boy? 7 e mezzo 7 e mezzo Ok, non è male Vabbè Non è male È più che sufficiente, scusa E che voto gli daresti al mio boy? 8 Il negro rimorchia solamente dalla sguarda, cioè con sorriso ti fa così Ok, ok, ok E poi ovviamente ci sono io, ma non dico niente, che voto gli daresti? 8 e mezzo 8 e mezzo Quindi ha dato da lui? 8 8 Ok Ok E vado a vincere di nuovo Ok, let's go, let's go Ehm Irene, è vero? Sì Vedi, ma non ricordo il nome, cazzo Allora, da chi devo iniziare? Inizieremo Ok, allora anche te 7 e mezzo, anch'io Non mi ricordo l'arrippo Tu è 8 e mezzo 8 e mezzo? Ok, capire, Irene è carica allora E anche te 8 e mezzo Ehm Ma di no, se è bro, capisci Ehi, ehi, ehi Ehi, ehi Ehi Allora L'ultima domanda Stra seria Quindi dovete stare attenti Cioè, è seria, non sto scherzando Chi sposeresti? Chi ameresti? E chi baceresti? No, no Ma è una domanda easy Questa è solo domanda, capito? Ehm Quindi cosa c'è? Chi sposeresti? Chi ameresti? E chi baceresti? E chi baceresti? Ehm Dai, tranquilla È una domanda Ehm Boh Puoi guardarla telecamera fuori? Sì Ehm Boh Io Bacerai te Ehm Amerai lui E spacerai te Scusiamoci Ehi Lei è già mia Cioè, mi piacciono i suoi voti Le decisioni che faccia Da un bacino Ehi No, capisci Capisci Ok, ok, let's go Abbiamo di nuovo Irene Ok Allora com'è? Chi sposeresti? Chi baceresti? Chi ameresti? Allora Ehm Ti amerei Ti amerei A te A te ti scusa Lui lo baci Ti amo almeno Siamo sperate anche noi Vediamo domani Ti ruvo al ragazzo Ne niente Allora Che voto dovresti A noi tre Da 1 a 10 al volo Gira Gira Ah, poi decide proprio, girati Allora 8 8 Ok, ok 8 Qualcosa in più, ma perché ha più stile Più stile, quindi ti piace lo stile tipo da strada Quindi 8 e mezzo 8 e mezzo Poi ci so Sì, ma io non mi giro mai da solo di solito, quindi voglio vedere anche te Ok Ok Un 9 9, ok Perché 9 Sei senegalese Qua la quality del Senegal Mi sa che gli italiani l'hanno riconosciuta La quality Non so se mi intendo Ok, l'ultima domanda poi ti lascio andare Ok Chi Baceresti, chi ameresti e chi sposeresti 3 e 3 Ognuno Non vi conosco, non lo so Eh, mi domanda tipo Non è niente Al volo Allora, chi mi bacio? Ti baceresti, chi ameresti e chi sposeresti Baccio lui Mmm Mmm Penso che amerai lui Scuserai te E' Sì 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 Sì